Voterò Trump, sicuramente. Lui è nel mio cuore. Lei è un ex sindacalista. Ha lavorato per anni nell'industria dell'acciaio. Perché un operaio come lei dovrebbe votare Trump? L'ultima volta da presidente ha rimesso in piedi l'economia. Ha introdotto dazi pesanti verso le industrie straniere, specialmente sull'acciaio. Questo ha aiutato le nostre industrie. Il prezzo del gas era basso. Tutto costava meno. Non c'erano guerre e la gente rispettava questo paese. Lui è stato sottotiro. Lui è stato quasi assassinato. E glielo dico, lui è il mio eroe e voterò per lui. Lei vive in Pennsylvania, che è uno degli stati cruciali per le elezioni. Gli altri operai la pensano come lei? Tutti quelli con cui parlo supportano Trump. Tutti amano Trump. E invece cosa pensa di Kamala Harris? Pollice giù. Non sono per niente un suo fan. Non ha combinato nulla negli ultimi quattro anni. Oggi abbiamo la peggiore economia di sempre. La nostra inflazione è cresciuta del 10%. Ma lei ha mai votato per i democratici? Sì, ho votato per i democratici in passato. Ho votato per Hillary Clinton. E perché ha cambiato idea? Il problema con Hillary è che lei non si relazionava con noi operai. I democratici da tempo non sanno entrare in contatto con i lavoratori. E invece Trump? Io sono un signor nessuno, ok? Non sono ricco. Lui ha invitato me e altri sindacalisti alla Casa Bianca. E mi ha lasciato parlare. Ero emozionato e onorato. Ah, tra l'altro ho qui una fotografia. Eccola. Cosa pensa delle accuse contro Trump? Penso che si debba guardare oltre. Bisogna guardare a quello che l'uomo potrà fare per il suo paese. Se andiamo a guardare ognuno di noi ha i propri difetti. Ma bisogna andare oltre. Negli Stati Uniti abbiamo un sistema giudiziario corrotto. Questi giudici corrotti che lo hanno attaccato sono tutti dei liberali e hanno cercato di bloccare la sua corsa. Hanno messo in piedi prove false per farlo fuori. Ma la gente che ha cervello non se la beve. Noi non ce la beviamo. Non ce la beviamo. Non ce la beviamo.